Preghiera del mattino Tu sei la nostra speranza, Signore. Noi Ti ringraziamo per il Tuo immenso amore. Tu, che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del Tuo Spirito. Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le Tue meraviglie. Amen. Amen.